ciao da massimo e benvenuti in questo mio nuovo video qui nel covo delle meraviglie intanto voglio ringraziare tutti tutti i nuovi iscritti grazie mille le persone che commentano cioè bene sono contento perché dobbiamo interagire siamo verso i 700 iscritti dai forza forza fate il passaparola dobbiamo arrivare a mille iscritti perché è importante se te non lo hai fatti iscritti non ti costa niente però mi dà l'energia e la carica di poter continuare con la maglietta di croco qui nel covo delle meraviglie andiamo a fare un po di polemica la polemica non fa parte del mio carattere ma questa volta c'ho questo sassolino che voglio condividere insieme a voi allora la editoriale cosmo questa casa editrice molto particolare praticamente a qualche mese fa iniziato a ristampare questa serie che si chiama fan uscita dopo guerre stellari la 77 78 sulla scia punto di guerre stellari possiamo dire è uno dei pochi fumetti di fantascienza fatti in italia renzo barbieri leone frollo tutto il team praticamente ci regala questa serie l'ho già accennato in qualche altro video e se non vado errato una serie che è composta non da tanti volumi in maniera mi pare in originale mi pare 7 8 volumi non voglio fare errori perché vada a memoria perché non mi sono preparato come faccio normalmente allora se hai informazioni più dettagliate scrivili nei commenti perché è molto importante dare le info esatte allora fan perché voglio fare un po di polemica apre una parentesi è uscito il numero 1 il numero 2 e il numero 3 devo dire che le storie non sono molto carine molto basiche che va a ripescare veramente l'immaginario di guerre stellari il bel giovane che vuole salvare la principessa di turno gli alieni gli astronavi le battaglie le spade laser tra virgolette le pistole laser insomma andava tutto a richiamare il fenomeno che era appunto guerre stellari dell'epoca però la editoriale cosmo ha fatto uno sgambetto e caro editoriale cosmo non si fa così e non si fa così e non è la prima volta in anteprima il numero 396 la rivista della panini che ci informa su tutte le uscite di questo mese in questo caso le uscite un mese due mesi però la rivista è uscita qualche settimana fa nella diciamo nello spazio dedicato alla cosmo abbiamo una riproposta e variazione eccolo qui questo è il numero 4 che doveva già uscire qualche mese fa però hanno pensato bene di fare una variazione e vi leggo fan il giovane eroe spaziale disegnato da leone frollo disegni buoni torna con il quarto numero a edizione limitatissima in modo da portare a termine la collana cioè allora praticamente quando inizi cosmo quando ti inizi una serie non si sa se avrà una fine è già successa attenzione con altre collane della cosmo non pensavo riempire 7 8 numeri non mi ricordo ripeto fan cioè in 6 7 mesi si completava l'opera invece no ci hanno fatto aspettare ma la cosa che mi ha turbato essendo edizione limitatissima e che dal prezzo di 4 90 per 110 pagine circa in formato possiamo dire diabolic che è veramente caro attenzione capisco l'edizione quasi semi anastatica che non lo è il fumetto di cult dell'epoca che non si trova i mercatini anzi se si trova costa anche caro però da 4 90 a portarlo a attenzione attenzione amici a 9 90 c'è il doppio le solite 112 pia piani magari piani 112 pagine in bianche nero capire cara cosmo mi rivolgo a te che sicuramente non vedrà il video però qualcuno mi auguro che possa riportati le mie parole che non valgono niente però cioè non puoi fare questo sgarbo a noi abbiamo due scelte che cosa possiamo fare tenere i tre numeri e buonanotte stoppare tutto o altrimenti per concludere la serie che non si saprà se verrà portata a termine dobbiamo spendere ben 9 euro e 90 per una cacatina scusate il gioco di parole una cacatina di di ristampa di 112 pagine neanche anastatica capisco il valore collezionista di questo di questa storia di questo personaggio ok però non mi puoi fare questo sgarbo da 4 90 a prendere a prendere a noi poveri diciamo lettori 9 euro e 90 per completare la serie ma si completerà poi perché ho paura anche di poter acquistare questo numero ma poi non finirla casomai potrei fare un bel brossurato di 500 pagine e completare un colpo solo la serie invece no ci vanno a spillare anche dei soldi ma non è finita qui la non arte ha fatto un altro sgambetto vi ho fatto vedere in precedente video il nick carter integrale di bombi della cosmo che meno male è arrivato alla sua conclusione la non arte ripropone dopo pochi mesi il nick carter di bombi in volumi cartonati di 192 pagine in bianco e nero a 29 euro e 90 c'è incredibile vedete anche questa guerra possiamo dire commerciale tra le case editrici di distribuzione sembra che facciano facciano apposta questi sgambetti questi sgarbi a noi poi semplici acquirenti semplici appassionati di fumetti e ci vanno a spillare altri soldi 9 euro e 90 volevo condividere questa cosa con voi perché sinceramente non ho parole non ho parole anzi ce ne avrei tante 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 ma bocca mia sta mezzitta perché non è il mio carattere fare polemiche ripeto non vorrei andare oltre io con tu rispetto la cosmo perché ci regala delle chicche che assolutamente non si avrebbero in casa e gli faccio complimenti però ripeto non puoi da 4 e 90 passare a 9 e 90 edizione nevitatissima fammi un cofanetto fammi un'edizione particolare posso anche spendere 9 euro e 90 ma e non si sa mai se andrà in conclusione vabbè è da marzo che abbiamo che stiamo aspettando il numero quarto e numero quattro adesso abbiamo la sorpressina di natale se uscirà a natale ok amici dai a parte tutto io vi ringrazio e ti ringrazio per l'ascolto se non l'hai fatto iscriviti attiva la campanellina perché i miei video sono molto random lo sai no nel cover meraviglie non si sa mai che cosa può uscire e qui questa volta è uscita un po di polemica da parte mia ti ringrazio dite la vostra attenzione nei commenti dite la vostra è importantissima cosa ne pensate di questo movimento editoriale della cosmo e noi ci vediamo ci ci vediamo ci ci vedremo ci vedremo siamo in tanti ci vedremo tutti al prossimo video il covo delle papere io mi incarto a parlare scusate ciao ciao e che la forza sia con voi fan 4 90 9 90 il dubbio ma